Amici di Fanner, un saluto e benvenuti al campo Longarina via di Castelfusano per questa partita della Serie B della Riga Calcio 8 in campo l'Admaiora e il McVecon. Grazie a tutti. 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 cida a tutti. Ora il pallone che forse verrà toccato per Turquati, tre in barriera, per la McB 태gan. E' uno schema invece per la conclusione da lontano. da parte del numero 23 Stefani alla però deviata dagli avversari allora laterale direttamente in area di rigore attenzione a questa conclusione di Vinaglia lasciato da solo sul secondo pallo non è riuscito a trovare la porta ora McBacon a ripartire con scarico arretrato direttamente sul portiere per i giocatori avanti 1-0 ecco verso il numero 8 Camillon d'ora anche del gol del vantaggio sulla corsia di destra l'ha trovata al centro bene Cora Musi che la tocca e poi il pallone è toccato ma che non finisce in rete solo calcio d'angolo per il McBacon però che occasione sottoporta nessuno Maglia Rossa è riuscita a deviarla quindi solo corner pallone battuto ora sul primo palo la girata ancora sul primo palo stavolta la parte di Rizzo non va a buon fine appunto quindi l'audicino con le mani dai indirizzati però un tocco in avanti ha provato a ristendersi qui l'armaiora ha tenuto una rimessa stessa della trequarti avversaria che a Binaglia può giocarla l'indietro su Stefani che però viene fermato si lotta sempre a centrocampo l'ha spuntato un po' il pallone tra i piedi poi è una jugata non precisa da parte di Scaramusi pallone per il pallone per sotto 1 a 0 in questo primo tempo il pallone recuperato dagli avversari un po' in avanti il controllo complicato è riuscito a girarla ma in maniera non precisa attenzione al controviato Admajora con questo pallone per Stefani limite dell'area di rigore con la porta che è sguardita il tiro e si salva McVecon con la rimessa laterale per gli avversari sempre Admajora siamo arrivati al cross c'è invece l'atterramento col fallo parte del numero 3 Pier Marini di calcio di punizione sempre tre in barriera per il portiere del McVecon allora parte ora la punizione ha superato la barriera però ampiamente al lato del portiere e con il portiere che riparte ancora un'imbucata per Cabiglione stavolta esce il portiere limite dell'area di rigore per bloccare la sfera e Binaglia tocco centrale prova a favorire poi ancora un'imbucata per il numero 80 Moretti pallone però non giunge tra i piedi del compagno quindi Caramusi far girare il pallone poi Rizzo sempre McVecon con calma rilancio in avanti cercata una sponda a parte proprio del numero 9 che ha cambiato gioco sul secondo pale poi un tocco un po' improvido la palla a Binaglia ci prova a partire incontro piede la di Maiora e adesso ha il pressing e gli avversari scifano anche il pallone Piermarini può ragionare toccato verso Cabiglione ancora un tocco sbagliato a parte del autore dell'unico gol per ora in questa sfida il rilancio col pallone messo giù da parte di Stefani per la Maiora sul contrasto l'avversario guadagna la rimessa laterale tutto aridrato ancora Stefani fatto con la rimessa tocco centrale Binaglia la mette giù pensa poi al destro vediamo se è arrivata la deviazione no per il direttore di gara solo messa dal fondo tutta ora Stefani in avanti Caviglione riesce nel tocco riparte la Maiora sempre Binaglia sempre col destro lontano però dalla porta degli avversari sempre un tocco centrale con Caramusi con un po' di rischio a giocare questo pallone tocco di ritorno sempre per lui Caramusi in avanti detto bene la difesa sul tentativo di rilancio allora Moretti con un controllo complicato approfitta Binaglia però la difesa del McBacon che si è chiusa e possono ragionare i giocatori in maglia rossa col destro deviato risposta del portiere con i piedi un po' cortodosso però efficace dai giù dai vicino avanti con lo scarico all'indietro ancora fa bene fa bene stavolta cercare caviglione poi ancora una conclusione stavolta al volo sempre fuori misura fai buon e nattro fai buon e nattro lasciamoci la palla ne fai buon e nattro fai buon e niente sta maus ragazzi no 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 chiamiamolo noi chiamiamolo noi ragazzi ricordiamoci che è c'è un gioco è meglio che può controllare la sfera il tocco corto binaglia che ragazza è parte palla al piede sempre binaglia due avversari la però in out rimessa a Maiora tocco proprio per Stefani che va a terra, non c'è il fallo Binaglia con forza di prendersela lancia la difesa direttamente tra i piedi del portiere per la Maiora che va anche lui al rilancio sponda di Moretti toglie Caramusi questa serie di batti e ribatti alla fine il colpo di testa è a favore del Mike Bacon che può attaccare con due avversari sul portatore di palla rimessa però per i giocatori in maglia rossa lo scarico arretrato ancora un rilancio al centro dell'area di rigore per un taglio stavolta da parte del numero 5 per il McBacon si era trattato di centofanti qui Caramusi che fa del Zarek palla sulla sinistra riesce il dribbling vediamo se arriva il cross entra l'area di rigore conclusione direttamente addosso però al portiere la rimessa tutta arretrata destro fuori al portiere sempre con il corpo dire di nuovo il gol degli avversari ma con Rizzo jugata al limite dell'area di rigore non riesce per un soffio ma io ora che provo a uscire questo giro palla centro campo liberare Stefani può portare il 21 scarico sulla destra conclusione e palla in rete sorpreso il portiere del McBacon quindi 1-1 arrivato l'1-1 il finire proprio di primo tempo gli ultimi 5 minuti per Vlad Maior questo can destro dalla distanza per fare il portiere adesso ancora pallone tre piedi per i giocatori in maglia a righe qui Torquati ora Stefani non riesce nel tocco e prova ad approfittarne Caramusi per attendere che salga qualche compagno lo fa adesso il numero 11 cross sul secondo palo fuori misura per entrato Porrari ancora calibrato bene il piede Stefani tocco a retrato se ne approfitta la Maior da questo pallone arriva tra i piedi di Porrari saggiamente scarica l'indietro con Centofanto poi addirittura dal portiere di giocatori in maglia rossa però in precisi nel rilancio che avevano rimesso agli avversari adesso possono ragionare sempre con Stefani palla larga sulla sinistra e di nuovo al 23 Binaglia con spazio alza un chiaio però però è preda della difesa è provato a stendersi proprio il McBacon tutto qua l'indietro caramusi fra lui a passare rimessa quindi McBacon si prova a girarla al volo deve uscire il portiere con i piedi porta sguarnita allora Rizzo pensa al destro lo trova con il suo tiro deviato in mano giocatore avversario quindi calcio di punizione dal limite grazie 3,4,4 prontowon ethics tocco al limite la girata a parte di Piermarini, messa laterale tutta sul rizzo, a fare la sponda al numero 9, Coramusi scavalcato e prova a lanciarsi Moretti, c'è Piermarini in anticipo, quasi in due tempi, è riuscito a girarla, sempre a migliore la palla, però era la difesa per il Mac Mekon con lo scarico arretrato e poi il rilancio, Coramusi ancora un pallone lungo nel letto, bene dal portiere, con coraggio addirittura fuori dalla propria area di rigore, ora un tocco alla messa giù, Fiorella di Maiorak può adesso ragionare, tunnel su Coramusi che però non sortisce alcun effetto, a parte di Torquati perché il pallone, le piedi ce l'hanno proprio in maglia rossa, è proprio numero 10, adesso ha spazio, va in verticale con Rizzo, ha provato l'imbucata, poi ancora, stavolta con il mancino, palla rasoterra, in out, andare al rilancio, ancora il portiere, sempre Rizzo che prova ad agganciare, strudeviato, a calcio d'angolo, questo pallone è toccato all'indietro, adesso al centro, troppo sul portiere, poi centrale, poi di nuovo un'apertura che non riesce, line out, prova a ragionare, sempre il McVecon in verticale con Rizzo, prova a fare tutto da solo, ancora Rizzo, scarico all'indietro, pallone ancora toccato verso Coramusi, indietro il verticale, sempre McVecon in attacco al primo tempo, col destro, da parte di Coramusi che si stampa sul palo, poi la ribattuta, che non trova la porta, ancora Armaiora, schiato sul palo colpito da Coramusi, però resta in attacco, tiro a giro, portiere in due tempi, un po' di difficoltà, deve allontanare con i piedi, non è precisissimo nell'intervento, ancora Binaglia, lo scarico arretrato, destro arriva stavolta, a parte di Stefani, ha trovato la porta, ancora McVecon, questo pallone in avanti, su Rizzo, l'imbucata, attosso però la difesa, ma non è finita, perché il numero 9, ancora il pallone tra i piedi, è battuto su uno dei suoi, vediamo se arriva il cross, adesso Basso, palla sul palo, l'aveva lasciato al portiere, rischiando anche qualcosa, adesso giurare il rilancio, scappa, scappa, tocca arretrato, a controllare il pallone, ad Majorac, qui va il rilancio, chiuso il centrale difensivo, poi, ancora Musi, tocca ancora in avanti, sempre McVecon, affischia l'arbitro, si va a riposo, sull'uno a uno, benvenite, benvenite,